Carlo Girardi è un professore molto conosciuto in provincia di Lecco e una memoria storica del paese di Airuno, paese dove vive tuttora. Ha voluto dare alle stampe la seconda edizione di un suo volume di componimenti chiamato Erbette. Innanzitutto, professor Girardi, perché scrive componimenti poetici e perché ha scelto questo nome particolare? È una mia tendenza naturale lo scrivere, ma non scrivo cose di grande interesse o di grande valore, sono piccole cose da cui il titolo Erbette, proprio per indicare qualcosa di molto umile, di molto basso, che non abbia alcuna importanza. Da cosa nasce? Da sentimenti personali, da emozioni provate, da fatti che sono capitati, dall'amore per la natura. Tante volte parlo anche di me, magari per criticare il mio carattere, che non è proprio dei migliori. Quindi non so se siano cose che meritino la lettura da parte di altre persone. Lei è legatissimo ad Airuno, paese nel quale vive tuttora. Io sono nato da Airuno, per me il mio paese è il non plus ultra, anzi non c'era uno più bello di questo, per me evidentemente è un'opinione personale. Ho notato che da parecchi decenni ha subito tanti cambiamenti positivi per quello che riguarda le sue strutture. Io vorrei che avesse subito tali cambiamenti, sempre in senso positivo, anche per tutte le persone. Che consiglio si sente di dare oggi ai giovani in un momento molto difficile? Lei che di giovani ne ha visti e cresciuti molti. Direi che ciascuno deve mettersi con la piena volontà per compiere il proprio dovere, che bisogna avere il senso della socialità, il senso della moralità e soprattutto bisogna amare anche il proprio paese, che non è solo il villaggio in cui noi viviamo, ma l'intera comunità che può estendersi sino all'intera Europa o anche al mondo completo. Amarlo si intende facendo rispettare anche i diritti che sono nostri. Infine la sua famiglia ha deciso di donare un giardino alla comunità di Eiruno. Perché? Siamo rimasti due sole persone, una sorella ed io oramai molto in età. Siamo nati in questo paese. Perché non ricordarlo con un gesto concreto per manifestare che al nostro paese vogliamo bene?